Lo abbiamo intervistato a bordo campo durante l'incontro di calcio in campo per il futuro a San Luca che ha visto schierati magistrati e nazionale cantanti. Fabrizio Frizzi, conduttore RAI colpito in questi giorni da un'ischemia, conduceva la manifestazione ed ai nostri microfoni si è reso disponibile, umile e sensibile al sociale. Oggi sulle condizioni di Fabrizio Frizzi, ricoverato per un'ischemia e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, la famiglia ha chiesto il massimo riservo. Dalle indiscrezioni che trapelano dalla struttura in cui il conduttore dell'eredità è ricoverato non sono però delle più incoraggianti. Secondo fonti ospedalieri citati dal Corriere.it, Frizzi versa in grave condizioni. Voci invece tranquillizzanti da Viale Mazzini. Dalla RAI hanno spiegato che il conduttore 59enne si sta sottoponendo ad accertamenti e che le sue condizioni sono stabili. Il dirigente Mario Orfei ha visitato Frizzi lunedì sera e martedì mattina. Abbiamo parlato e scherzato, dice, per poi augurare al conduttore pronta guarigione a nome di tutta l'azienda. L'eredità nel frattempo è stata sospesa e al suo posto sarà sostituita da una serie di puntati di Don Matteo 9. Il nostro in bocca al lupo va al noto conduttore RAI che vogliamo ricordare con l'ultima intervista a noi rilasciata. Cos'è di me la battuta? L'eredità che lasci ai vicini? Ricordiamo anche tu a una piccola. Guarda, visto che noi alla fine dell'eredità, grazie a Dio con successo straordinario, facciamo la ghigliottina da anni. È una bella eredità che mi ha lasciato Carlo, ma poi tornerà anche lui. Voglio dire una parola senza fare il gioco della ghigliottina, ma la parola di oggi, come dico là, la parola di questa sera, la parola di oggi è futuro, è futuro. Siamo qua per il futuro di questi ragazzi. Il campo è l'altra parola, ma il futuro è quello a cui dedichiamo questa partita, gli sforzi, l'entusiasmo, il coraggio. Siamo qua per il futuro. Speriamo che questa nostra presenza di tutti noi, delle scuole, dei ragazzi, dei piccoli calciatori, dei grandi, serva a cambiare un po' le cose.